Il benessere e la bellezza, lo diciamo spesso, viaggiano di pari passo ma affinché ciò accada è necessario rivolgersi sempre a degli esperti ed è per questo motivo che in tale ottica nasce il congresso dal benessere alla bellezza e che si svolgerà venerdì e sabato presso il Museo della Pace. Vi spieghiamo e vi raccontiamo tutto quanto accadrà in queste due giorni attraverso l'ideatore proprio di tale progetto, ovvero il dottor Lanfranco Scaramuzzino. Oggi qui con noi a Mattina Live. Dottore, bentrovato, grazie di essere qui con noi quest'oggi. Grazie a lei per l'invito. Andiamo diritti appunto che cosa accadrà in questo suo convegno, come si svolgerà la due giorni fra incontri e lavori. Dunque abbiamo organizzato queste due giorni che riprendiamo dopo la pandemia che ci ha un po' interrotto le attività congressuali con una revisione diciamo del programma che era prima mirato più che altro alle gambe, al problema della circolazione, problemi di vene. Abbiamo pensato di aprirci, quindi di interessarci del benessere e della bellezza un po' a 360 gradi visto che abbiamo un network di specialisti che si interessano di diverse specialità proprio per rendere diciamo la bellezza e il benessere delle nostre pazienti. E quindi partiamo col venerdì tutta la giornata dedicata ai medici e poi abbiamo pensato di dedicare uno spazio il sabato mattina al pubblico cioè alle nostre pazienti e ai nostri pazienti perché abbiamo anche dei pazienti maschi che ora si rivolgono a noi sia per il benessere ma anche per la bellezza e quindi loro potranno poi scambiare delle opinioni, potranno fare delle domande ai nostri esperti colleghi specialisti di diverse branche che saranno lì a disposizione. Questo è un aspetto molto importante, ribadiamolo quindi il 3 dicembre spazio aperto al pubblico su un focus legato alla bellezza e al benessere ma soprattutto affinché nasca questo dialogo interattivo fra gli specialisti ed il pubblico perché dottore effettivamente sono tante le domande che il pubblico si pone per quanto riguarda la bellezza ma i vari aspetti che riguardano e caratterizzano la bellezza. Io credo sia importante... In un'ottica multidisciplinare tra l'altro. Sia importante perché l'informazione in questo campo è fondamentale cioè l'informazione noi possiamo trovarla anche online, sui giornali eccetera ma spesso è fuorviante mentre invece è molto più importante il dialogo diretto con il medico perché il paziente può anche rendersi conto di quello che veramente, che realmente si può ottenere da un trattamento perché molto spesso sono promesse delle cose impossibili quindi noi dobbiamo sempre mantenerci nei limiti di quelle che sono le nostre possibilità anche perché questo significa poi stabilire un rapporto di fiducia di coerenza col paziente e quindi non si arriva poi a quello che può essere la delusione del paziente che è spesso, come dire, secondaria a dei trattamenti che non hanno mantenuto quelle che sono le promesse che iniziamo. Dottore, naturalmente ecco quali sono le possibilità, i limiti delle possibilità soddisfare le curiosità del pubblico se una mattina live ho qualche curiosità la appunto tolirei considerata la sua presenza qui quest'oggi a mattina live con lei si parla anche molto spesso di medicina rigenerativa attraverso le così tante nominate cellule staminali che secondo il pubblico farebbero miracoli ma è veramente così? Vogliamo fare opera di chiarimento? Sì, diciamo il tema fondamentale del convegno è proprio sulla medicina rigenerativa perché la medicina rigenerativa è quella che, come dire, avvicina il benessere alla bellezza io penso che poi tra l'altro la nostra vita debba essere fatta di benessere e bellezza le due cose sono fortemente legate collegate, è vero però bisogna stare attenti perché molto spesso i termini medicina rigenerativa e cellule staminali sono abusati, un po' come succedeva nel passato per il laser che prometteva dei miracoli si aspettava che questo laser fosse una luce che poteva risolvere tutti i problemi senza dolore senza conseguenza ora sta vivendo la medicina rigenerativa e le cellule staminali un periodo molto simile nel quale si parla di queste due cose come se fossero dei miracoli in realtà la medicina rigenerativa è una branca che si sta sviluppando molto in questi anni in realtà affonda le proprie radici nel passato prossimo se pensiamo al trapianto di midollo osseo risale a oltre vent'anni fa quella è medicina rigenerativa lì c'erano le prime cellule staminali oggi il panorama si allarga moltissimo per cui la medicina rigenerativa sta facendo grandi passi e molto velocemente perché è frutto della interazione del lavoro di più branche specialistiche partecipano alla medicina rigenerativa dagli ingegneri biomedici biologi, gli ematologi, i chirurgi plastici, i chirurgi vascolari gli ortopedici, i ginecologi quindi si può immaginare che c'è un fermento da questo punto di vista ed effettivamente io credo che rappresenti un po' il futuro che sostituirà poi tanti altri atti chirurgici perché già vediamo che per esempio a livello ortopedico molte cose possono essere curate con la medicina rigenerativa con le cellule staminali e quindi magari procrastinare un intervento chirurgico in quest'ottica mi permette la domanda quindi se non fa di miracoli quelli tanto attesi e desiderati sicuramente la medicina rigenerativa permette di rallentare il processo di invecchiamento e quindi le chiedo cosa accade organicamente se così è perfetto è proprio così il discorso rallentare il processo di invecchiamento in molti campi e questo poi l'obiettivo vero della medicina rigenerativa io penso che il sogno di tutti noi sia non invecchiare è un sogno nel cassetto perché questo è impossibile ma anche invecchiare bene però magari è una bella missione questo è un altro obiettivo della medicina rigenerativa e l'obiettivo di noi medici oggi cercare di allungare la vita ma anche che sia una vita buona perché io credo che l'allungare la vita ma senza il concetto poi intrinseco di benessere sia una sciocchezza perché io credo che se noi vogliamo vivere più a lungo ma dobbiamo anche vivere bene altrimenti non ha senso e questo è lo scopo della medicina rigenerativa e delle cellule staminali che attraverso i vari campi di azione ci consentono non solo di allungare la vita ma di allungare una vita nel benessere e quindi nel miglioramento proprio dello stato di noi stessi parlare di miglioramento dello stato naturalmente stiamo comprendendo dalle sue parole quanto sia importante la medicina rigenerativa per la funzione del benessere a cui si collega la bellezza ma soprattutto per una qualità di vita buona per quanto riguarda il nostro organismo a 360 gradi ed è naturale dottor Scaramuzzino che il fisico in realtà andando avanti con gli anni cambia nella donna ma anche nell'uomo ed è per questo motivo che in occasione di tale convegno vi sarà un focus dedicato proprio anche al tema della menopausa ed andropausa è veramente possibile con ritardare le stesse anche con la medicina rigenerativa in ottica di quella qualità di cui lei parlava qualità di vita di benessere di vita basta pensare per esempio ai nostri genitori insomma a 60 anni sembravano già vecchi e che avessero perso anche come dire l'interesse relazionale io credo che oggi le cose siano completamente cambiate io ho pazienti 60 anni che sono belle vivaci attive e penso che vogliono mantenere proprio la loro vita relazionale a lungo e questo poi è l'obiettivo poi dei ginecologi e degli andrologi degli andrologi oggi in particolare perché forse si è parlato sempre molto di menopausa di terapia sostitutiva ormonale nelle donne ma si è parlato poco del prolungare l'andropausa di allontanare l'andropausa e c'è un po' come dire un po' una inibizione a parlarne oggi invece è tutto più facile esiste anche la figura dell'urologo più andrologo che è quello proprio che si interessa del mantenere ancora un'attività vivace per l'uomo così come per la donna le possibilità ci sono vanno anche diffuse e ovviamente bisogna sempre rivolgersi ai giusti esatto perché oltre alla bellezza il nostro sguardo è sempre indirizzato alla prevenzione e agli specialisti ecco anche nel campo della medicina quanto è efficace tenersi aggiornati è fondamentale io credo che il segreto anche del successo oggi di un professionista sia proprio il mantenersi aggiornato io trovo che con dispiacere che molti colleghi non provano questo piacere nell'aggiornamento e purtroppo rimangono indietro e chi ne pega le conseguenze poi spesso sono i pazienti che vengono tante volte anche influenzate da scelte che non sono aggiornate intanto questo è un aspetto sicuramente importante di cui si parlerà anche durante questo convegno ricordiamo l'appuntamento il 2 il 3 dicembre il benessere e bellezza il via al congresso dal benessere alla bellezza per l'appunto si svolgerà venerdì e sabato presso il museo della pace a realizzarlo il dottor Alan Franco Scaramuzzino che per appunto sarà presente in queste due giorni di lavoro incontro e dibattiti grazie davvero grazie a lei speriamo di vederci presto sicuramente prestissimo ne parleremo poi sicuramente ancora di quello che è stato il bilancio appunto di questo convegno con lei intanto pubblicità restate con Mattina Live grazie a tutti Grazie.